Start, 2, 1, initial ignition and liftoff! Guardate, voi sapete che tra le numerose classi avete anche quella del pescatore con la possibilità di piazzare le vostre esche e andare a pescare. Ma c'è una cosa che non tutti sanno e si sblocca con una questa ed è la possibilità di pescare in oceano. Quello che consiste, andando qua in fondo alla città di Limsa, che è la città portuale, la patria principale della pesca, qua sotto c'è lo Seam Fishing e praticamente questo tizio qui ci fa vedere, guardate quanto è figo, in 4 minuti potremo salire sulla nave e quindi partire. Abbiamo anche la possibilità di vedere, vedete, in ogni ora, adesso sono le 15.55, alle 16 partirà dell'8 agosto, sto giocando prima, ovviamente molto prima di quando vedrete il video, però ogni orario, alle 18 ad esempio quest'altro percorso, ogni orario ha un percorso diverso. E tutto questo si divide in 3 sessioni da 7 minuti l'uno, quindi un totale di una ventina di minuti abbondanti, dove affronteremo la notte, il giorno e il tramonto. Quindi 3 zone diverse, con una fase del giorno diversa, indipendentemente dal tempo che vedete qui, cioè è istanziata, e si viaggia insieme ad altre 20 persone a pescare e fare esperienza, ottenere tesori. Viene passato, diciamo, come dungeon, ma dungeon non è, perché ognuno può alla fine... In realtà sì, ci sono le missioni di gruppo, in cui tutti bisogna raggiungere l'obiettivo di pescare tot pesci, di raccogliere tot pesci, comunque sono 3 obiettivi, mi pare. Ovviamente dobbiamo aspettare adesso che il momento giunga, per poi attendere di nuovo che tutte le persone siano pronte. mancano 3 minuti, quindi adesso io ho già preso un po' di pesci, ho già liberato molto l'inventario, ed è un buon passatempo per fare esperienza. Tenete conto che io ho fatto, mi pare, la prima volta dal livello 8 al livello 16 di pesca. Quindi si ottengono anche pesci rari, quindi con la possibilità di venderli. Questo gioco mi sta stupendo giorno dopo giorno, ho innovato anche un altro mese, insomma. Ho deciso, dopo aver finito la prima espansione Evansworld, di prendermi un po' di pausa e ho iniziato a far salire le lavorative. Quindi il crafting, il gathering, e mi ci sto divertendo. Ovviamente io sono di livello 64 con la mia classe principale, quindi oltre a quello io non potrò andare con le lavorative. Non a livello, cioè ci posso andare oltre, ma per salire mi servirà a gatterare roba di livello più alto e per raggiungere magari quelle risorse dovrò andare nelle zone nuove che si esplorano facendo la storia principale. Quindi bisogna aspettare. Ora, restiamo in attesa. Vedete qua c'è già della gente che è pronta ad accettare. È bellissimo perché arrivano tutti, sono già tutti qua pronti, stanno già acquistando un po' di roba. Vediamo se posso comprare qualcosa anch'io. C'è qualche esca, magari. Un'esca versatile che ce l'ho. Questa non ce l'ho. Questa non ce l'ho in effetti. Magari me ne compro qualcuna. Ma sì. Prendo anche il Kail che non ho. Ne prendo 99. Dove costa un poco. E così qua ne ho un po'. E quindi dovrò capire... Perché qui vedete, in questo ad esempio, il Plump Worm, mi dice che sono per i pesci grossi. Mentre questo qui è medium sized. Questa che usa invece per la pesca in oceano. Quindi tenete conto che anche nel mondo il luogo dove pescate, perché ce ne sono tanti, tutti questi, ognuno ha i suoi luoghi che dovete scoprire. E sono anche solo banalmente questo fiume, questo fiume, c'è una cascata magari. Ogni zona ha i suoi pesci. Io in questa zona qui, nello specifico, li ho scoperti tutti. Sono alcuni rari, altri meno. E questo io non so ancora cosa sia. Ci sono alcuni addirittura che escono in determinate ore del giorno. E ore del giorno non ore reali, ma ore di Erozea. Quindi adesso sono le 10.10 di mattina e alcuni pesci magari escono a mezzogiorno, al pomeriggio, alla notte. Così come ci sono i minerali collezionabili che poi si possono fare solo in determinate ore del giorno. Manca un minuto, meno di un minuto. Devo stare attento perché qua c'è tanta gente quindi dovevo unirmi velocemente. Ok. Comincia. Vedete che dobbiamo essere in 24. Siamo già in 20, siamo già in un bel po' di gente. 21 e si parte. Credo siano già tutti. già tutti quelli che dovevamo essere. Mancano due. Vedete tutti questi qui sono tutti già equipaggiati con il livello di pescatore presumibilmente con il loro livello sono tutti livelli altissimi. 90 100 80 91 97 adesso posso cliccare andare a vedere. Ok. e si parte. E questa è una sorta di dungeon finder della pesca. Ed è una funzione che ho scoperto per caso perché me l'hanno detto in guardavo una live di italiani e e mi sono informato. Ok. Questa è la barca. Ci mettiamo in un punto qualsiasi e iniziamo a pescare. ovviamente non vi tedierò con la pesca e vedremo solo alla fine che cosa avrò raccolto. Intanto io butto tutto quello che trovo qua sotto butto i pesci che ho di qua in modo da liberare tutto e lasciare spazio solo i pesci nuovi che prendo in modo da avere tutto qua. Metto anche questi qui così almeno li vedremo tutti. Ok. E ci ritroviamo poi a fine a fine pesca perché vedete che qua ci sono 6 minuti e 50 secondi e quando noi andiamo a pescare qua ci sono le missioni dobbiamo raccogliere dei crabs dei crostacei 13 e raccogliere almeno 5 pesce a 3 stelline ah sto usando l'esca sbagliata probabilmente proviamone un'altra prendiamo questo provo a lanciare e poi anche questo obiettivo ci sono tutti questi obiettivi da fare del viaggio e quando noi li raccogliamo guadagniamo dei punti adesso vediamo magari uso l'artificiale se non pesco niente neanche con questo vedete tutto molto easy molto chill stiamo pescando non si fa i fatti suoi non ci sono mostri non c'è niente io uso i rebate perché mi sono distrato a parlare aspettiamo e vediamo voglio farvi vedere come funziona anche questa cosa qui ho buttato via praticamente un minuto però ci sta a provare poi ok pesco vediamo cosa prendo e poi mi danno dei punti ok questo quando esce questa cosa qui è il primo che peschiamo di quel tipo lì poi andremo a vedere quanto vale eccolo qua ora niente vado avanti mi faccio tutta la sezione la sessione qui di la prima di 7 minuti e poi ci vediamo alla seconda ok abbiamo non si può più lanciare la canna perché mancano 16 secondi e abbiamo fatto 382 punti non sta andando benissimo sto sperimentando nuove esche calcolate che l'altra volta ho fatto più o meno 2000 punti dopo 3 sessioni quindi ho pescato un po' di roba ho fatto un livello e ho sbloccato anche il release quindi la possibilità di rilasciare un tipo di pesce quindi ogni volta che lo pescate se non vi interessa ve lo rilascia devo studiarmi bene come funziona comunque questo viaggio è partito la notte è finita adesso la prima sessione ora andremo con il giorno la pesca di giorno quindi il viaggio continua cambiamo location quindi cambieranno probabilmente anche i pesci e iniziano altri 7 minuti dove pescheremo rilassandoci intanto io di solito tengo sotto anche un podcast magari da ascoltare bisogna essere comunque pronti quando escono i punti esclamativi sopra la testa adesso è giorno tenete conto che c'è anche il meteo quindi può piovere bel tempo nebbia insomma ci sono anche tutte queste cose che influenzano sia la pesca ma influenzano anche il gioco base a riguardo a quello che pescate magari nei fiumi nelle varie location comunque qui ci dà delle informazioni sullo stato del metro del vento qua vedete che hanno tutti i bonus io no ogni tanto qualcuno lancia qualche buff per tutti ma non è il mio caso in questo momento e vediamo cosa riesco a prendere come primo pesce cambiando zona questa è una zona ok due punti esclamativi che non è male il massimo mi pare sia tre dovrebbe essere qualcosa di abbastanza grande si è risettata la lista e vado a pescare un altro eh sì è cambiato totalmente guardate cosa cosa ho pariato finora ho preso questi qui questo qui vale 72 punti non è neanche tanto ma è un crostaccio anche questo e poi vedrò anche quanto valgono all'asta perché magari direi sarà quella di venderli comunque all'asta o tenerli perché come una professione come ad esempio il creatore di armature può distruggere un'armatura e recuperare nei materiali e si chiama desentitize desintetizzare insomma i pesci vengono desintetizzati dal culinarian quindi dalla classe del cuoco giustamente quindi lo apre e ottiene le interiore del pesce quindi ne ottiene roba magari o il pesce in sé cucinabile sempre dal culinarian ma è anche distruttibile ottenendo magari cristalli o cose del genere quello devo ancora sperimentarlo perché sto livellando anche quello me la sto un pochino rilassando ora dopo aver visto che cosa ho preso con questo questa cosa qui ci vediamo alla fine della sessione all'inizio della prossima ecco in questo caso ho pescato un spectral sea bow che ha reso per tutti diciamo l'ambientazione spettrale è successo a me può succedere anche ad altra gente e questo cambia un pochino le condizioni perché è una sorta di credo momento bonus in cui si pescano cose più belle quindi tra l'altro questo pesce qui è anche utilizzabile per gli acquari credo per creare degli acquari con all'interno il pesce che abbiamo preso c'è stato un momento in cui e adesso si sta ripetendo in cui sono arrivati i delfini ora cambio esca e provo un altro verme a me mancano due minuti alla fine e tra l'altro vale 100 quello quindi credo che quest'esca qui non vada bene passo alla versatile tra l'altro è possibile anche usare delle abilità qua quelle che abbiamo sbloccato con i livelli che ci consentono magari di aumentare la percentuale di trovare un pesce grosso mi è andata bene adesso ne ho trovato 1 o 4 stelle vedete che dobbiamo prenderne almeno da 3 quindi abbiamo completato questo obiettivo mi diminuisce l'efficienza dell'esca con l'aumento della possibilità di prendere pesci più grandi quindi è possibile che mi fugga il pesce ho preso un altro ancora bello sto prendendo con questa esca qui sto prendendo in tre lanci una roba molto più bella comunque ci rivediamo all'inizio della prossima sessione bene è finita anche la seconda sessione e quindi ci spostiamo all'ultima tratta del nostro viaggio che avverrà durante il tramonto ho pescato molto di più da quando ho cambiato l'esca ho preso quella versatile credo sia quella artificiale perché non si consuma mai e vediamo vediamo adesso ho preso dei bei pesci comunque quando c'è stata quella l'oceano che è diventato fantasma e qua c'è tutta proprio la gente fisicamente com'è vestita in questo momento che è in viaggio con noi siamo 24 persone non ho ancora capito se le missioni siano cooperative o singole io comunque ne ho completata una sola quindi finirò così probabilmente tanto le esche si ne ho sempre 10 quindi non si consumano mai queste ok ricominciamo per gli ultimi 7 minuti l'ultimo tratto siamo a adesso dovrei vedere la mappa che non mi ricordo dove siamo comunque l'ultimo l'ultimo tratto vediamo cosa prendo sono 1.200 quindi magari i 2.000 li raggiungo vediamo perché poi c'è la classifica finale ho preso diversi pesci verdi comunque sarà da vedere come quanto valgono intanto adesso ho buttato probabilmente ho temporeggiato troppo non voglio farvi perdere troppo tempo quindi adesso ci rivediamo alla fine della sessione vediamo qua cosa prendo se prendo qualcosa perché non abbocca niente si è ventare stavolta speriamo non fugga perché non è neanche scontato che ce la facciamo però per punti esclamativi non è male eh sì ho preso un altro pesce per la prima volta vale 100 ok poi dovremmo anche gestirci le le esche in base a quello che sono i nostri obiettivi perché con l'esca che usavo all'inizio pescavo crostaceri e io dovrei prendere dei crostaceri ma al momento me ne frego dovrei usare anche un'esca debole e ho preso un altro di quelli belli tra l'altro tenete conto che questo livellamento è il terzo livello che faccio quindi si livella anche abbastanza velocemente qui una pesca comunque può essere fonte di eredito vendendo i pesci e può essere anche fonte di risorse per il vostro cuoco che anche esso può vendere poi le sue creazioni o farle usare poi a le classi da combattimento maghi e guerrieri che siano ora si stiamo facendo un po' di punti gli ultimi due non sono stati granché come pesci per quanto siano stati grandi comunque di valore non mi ha dato molti punti e niente ci vediamo alla fine della ok alla fine di questa ultima tranche di pescata niente ho fatto un altro livello ancora e ho sbloccato un'abilità mooch praticamente questo non so come si usa effettivamente però praticamente ci spiega perché se noi prendiamo un pesce lo possiamo tenere attaccato al lamo per farlo diventare a sua volta un'esca per un pesce ancora più grande non so effettivamente come si usi se dopo che ha boccato qualcosa dopo che stiamo raccogliendo non lo so vorrei provare a usarla ma non so se adesso non me la fa usare eh no sto continuando a pescare roba bella ho raggiunto i 2300 punti quindi ho fatto un sacco di alcuni deve essere grande il pesce deve essere già di suo grande e posso lasciarlo attaccato per prenderne ancora più grandi quindi niente probabilmente mi si attiva quando posso probabilmente non ancora non sto prendendo roba un altro pesce ancora nuovo sì 2004 60 sono abbastanza soddisfatto guardate quanta poca vita ho qua in alto a sinistra rispetto agli altri a parte c'è un livello 32 sono un livello 25 sono partito al 21 quindi ho fatto anche i miei bei livelli ora abbiamo finito mancano 20 secondi e a breve avremo la classifica totale di tutti i partecipanti e e basta la seduta diciamo è finita la qua possiamo andare via subito ma non ha senso aspettiamo la fine in modo da vedere il resoconto finale e vedere se guadagniamo ancora altra esperienza due secondi un secondo fine ok stiamo tornando all'imsa stiamo tornando al porto queste sono tutte le catture mie punteggio ho fatto 3000 ho preso 7000 di esperienza 7200 di esperienza questi sono tutti i punteggi le catture calcolate che c'è gente che ha preso 133 pesci io ne ho preso veramente pochi e non so come abbiano fatto ma è esperienza ho fatto il punteggio più basso di tutti gli altri hanno fatto 19000 il più alto io ho fatto schifo ma ci sta abbiamo 60 livelli di differenza quindi più di 60 livelli e quindi qui è finita abbiamo fatto l'altra esperienza siamo quasi a livello 26 ora io ho preso un po' di roba potrei andare a vedere quanto valgono giusto così che è la cosa che faccio normalmente mi accelero un pochino con la corsa e vado alla mia campanellina dove c'è il mio retainer che mi può dare una stima del prezzo vediamo un po' posso farglielo vendere a questo tizio qui che vende roba vediamo sales vediamo quanto si vende vediamo prima i due i due blu qui così li iniziamo a dividere subito allora in vendita costa pochissimo li vendono veramente pochissimo questo lo spettral questo viene venduto a 50 non vale niente neanche questo quindi li mettiamo qua in fondo giusto per valutare se puoi metterli via o buttarli l'amerclow vale 20 monete quindi non vale niente neanche lui quindi buttalo giù non saprei guardiamo gli ultimi due verdi che mi sono rimasti questo vale 15 non vale niente penso sia roba che si peschi normalmente questo invece il cocosteus vale 16 no non vale niente assolutamente niente questa è una sessione veramente questo 44 no si vendono solo in grandi quantità il crostaccio qui vale 55 no direi che da questo punto di vista abbastanza fallimentare come pesca redditizia in questo caso non è andata come speravo ho trovato roba che valiera un po' di più bene adesso voglio vedere questo che non pescati subito tra l'inizio ma 121 neanche tantissimo calcolando quanti ne dobbiamo vendere flowfish no niente niente pesca assolutamente fallimentare adesso vedo cosa fare con questi e niente questa era una delle funzioni per livellare la pesca per fare un po' di competizione in modo molto chill con le altre persone e soprattutto livellare e probabilmente si pesca anche roba di valore ma non al mio livello e con la mia esperienza avrò bisogno di seguirmi un po' di guide allora questo io lo ripeto ancora una volta è un gioco che inganna tantissimo le prime ore di gioco perché comunque ho fatto lo sbaglio anch'io di pensare che fosse molto più semplicistico molto più sempliciotto come gioco e che non corrispondesse minimamente alle mie aspettative in realtà un sacco di roba nascosta che sbloccate col tempo e tra l'altro sono solo all'inizio della seconda espansione e ce ne sono 4 e non oso immaginare quanti nuovi luoghi ci saranno da scoprire ho sempre un coinvolgimento molto tiepido in questo gioco infatti non esagero con i video ma qualora qualcuno o più persone mi dicessero no fai una guida vogliamo il tutorial vogliamo una spiegazione serie una live bella lunga fatemi sapere che poi comunque io ci penso e magari la faccio io vi saluto vi ringrazio grazie per l'attenzione e un augurio comunque di buone buone vacanze questo agosto caldissimo alla prossima e ciao ciao